In questo video parleremo della vaccinazione contro il Covid-19 in gravidanza. È un video che nasce per una previsione della letteratura attuale e mi riferisco ad attuale al fine di agosto 2021 sui dati che sono stati pubblicati sulla sicurezza e sull'opportunità o meno di fare una vaccinazione contro il Covid-19 in gravidanza o nel periodo periconcezionale. Affronteremo inoltre poi il problema della vaccinazione nelle donne che stanno assumendo la pillola contraccettiva. Questo video non vuole essere né un incentivo alla vaccinazione né un disincentivo alla non vaccinazione, vuole essere soltanto un approfondimento della letteratura riguardo ai temi trattati, di modo che ognuno possa prendere poi scientemente e coscientemente le proprie decisioni. Ma andiamo a vedere qual è il background di questa malattia. Dunque i dati ci dicono che a giugno 2021 nel mondo ci sono stati circa 213 milioni di ammalati con all'incirca 4 milioni e mezzo di morti. Quindi questo è per renderci un po' conto di quanto sia particolarmente facile potersi ammalare di Covid e quanto una eventuale malattia di Covid possa avere un impegno importante sulla salute umana. C'è da dire ovviamente che le donne gravide di per sé non hanno assolutamente una maggior probabilità rispetto alla popolazione generale di contrarre la malattia e solitamente la malattia ha poi un decorso con dei sintomi molto lievi o moderati. Tuttavia è bene precisare che la gravidanza deve essere comunque considerata come un fattore di rischio per avere poi una malattia grave o severa da Covid-19. Ovviamente purtroppo ad oggi le uniche armi che abbiamo a disposizione contro questo tipo di malattia resta il vaccino contro il Covid. Questo vaccino ha suscitato una serie di perplessità anche nella comunità scientifica soprattutto all'inizio della loro commercializzazione in gravidanza avendo quindi il cosiddetto dubbio ammetico da essere o non essere a vaccinarsi o non vaccinarsi in periodo periconcezionale o in gravidanza. La vaccinazione, la prima domanda diciamo che qualsiasi donna in gravidanza va a rivolgere al proprio ginecologo o medico che la segue è appunto quello di dire dottore il vaccino è sicuro in gravidanza? Questa domanda nasce dal fatto che le donne in gravidanza e allattamento sono state escluse ovviamente dai trials clinici che hanno messo in commercio i vaccini attualmente in uso in tutto il mondo e quindi in linea del tutto teorica che dico del tutto teorica poi vedremo perché abbiamo dei dati pochi dati disponibili. Ovviamente questo ha portato a una serie di dubbi sia nella comunità scientifica che comunque nella popolazione bersaglio. Basti vedere come poi i dati della comunità scientifica e le conoscenze che abbiamo avuto rispetto a questo tipo di vaccinazione in gravidanza si siano modificate drasticamente in tempi molto rapidi proprio perché ci siamo trovati di fronte a una situazione del tutto nuova e in rapidissima evoluzione. Ad esempio nel 2020 il Joint Committee on Vaccination and Immunization affermava no al vaccino se in gravidanza o in cerca di gravidanza. Entro tre mesi dalla prima dose si poteva poi andare a cercare un nuovo bambino. Non esprimeva consigli invece per le donne in allattamento. La stessa commissione alla fine del 2020 invece affermava che non ci sono prove sufficienti per raccomandare l'uso rutinario del vaccino anti covid 19 durante la gravidanza ma è consigliato in gravide ad alto rischio o inevitabile rischio di esposizione al virus stesso o che avessero il rischio di gravi complicanze da covid 19. Per le donne che cercavano di concepire non è necessario evitare la gravidanza dopo la vaccinazione e nelle donne in allattamento può essere offerta invece la vaccinazione. Siamo arrivati poi ad aprile 2021 quindi alla fin fine nell'arco di un anno e qualche mese dove viene accolta la raccomandazione di offrire la vaccinazione di routine alle pazienti gravide come per il resto della popolazione. Il timing della prima dose deve essere individualizzata, nelle donne a più alto rischio il prima possibile ovviamente. Per le altre si può scegliere di aspettare fino alla fine del primo trimestre se sussistono delle preoccupazioni circa il primo periodo di gestazione. In realtà anche questa affermazione che era vera ad aprile vediamo che oggi nei primi giorni di settembre non è neanche più vera. Infatti si è dimostrato che la vaccinazione contro il covid è sicura e può essere effettuata in qualsiasi trimestre della gravidanza, in qualsiasi momento della gravidanza stessa. Tutte questi dubbi e tutte queste incertezze e questo modificarsi di raccomandazioni che avveniva in maniera così rapida ha creato ovviamente delle perplessità sia nell'ambito scientifico, nell'ambito medico che nell'ambito della popolazione generale come dicevo. Quindi ho pensato di fare proprio questo video per creare quantomeno una base scientifica e dei dati che sono oggi a disposizione di modo che ciascuno si possa fare la propria idea. Andremo quindi ad analizzare quali sono i tipi di vaccini che possiamo fare in gravidanza, il perché farlo o non farlo in gravidanza, affronteremo poi il problema della sicurezza del vaccino per la mamma e per il feto stesso, vedremo se c'è un periodo più idoneo di quando eseguire questo vaccino e quali sono un po' le raccomandazioni e gli studi clinici della comunità scientifica. Sappiamo bene che ad oggi sono stati commercializzati due grosse tipologie di vaccini, uno che è a vettore virale, cioè sfruttano un virus per portare all'interno del nostro organismo una proteina per il quale il nostro organismo va a stimolare il sistema immunitario e questa proteina, trovandosi poi sul virus del Covid-19, fa sì che questi possono essere neutralizzati precocemente dal nostro sistema immunitario. L'altro tipo di vaccini disponibili invece è il cosiddetto vaccino a RNA messaggero, ovvero vengono inserite, veicolate all'interno delle nostre cellule tramite delle particelle grasse un RNA messaggero che va a codificare per la proteina spike questa proteina verso il quale il nostro sistema immunitario produce anticorpi che sono poi ovviamente diretti verso la proteina che esprime anche il vaccino. Ora è bene precisarlo che l'RNA messaggero, come tutti noi sappiamo, per definizione non va all'interno del nucleo ma rimane all'interno del citoplasma della cellula, all'interno del nucleo troviamo il DNA, quindi è ovvio, banale anche forse specificarlo, che l'RNA messaggero non può modificare il DNA. Questa è una delle più grosse preoccupazioni forse che ci vengono riferite dalle pazienti in gravidanza, ma tutti noi sappiamo benissimo che l'RNA messaggero per sua definizione non può andare a modificare il DNA. Quindi quando si va a vaccinare una donna ad oggi con un vaccino a RNA messaggero, quindi noi non inoculiamo nella paziente un virus, né un virus attenuato né un virus a cibo ucciso, ma inoculiamo soltanto una piccola particella di RNA messaggero che serve per codificare questa proteina contro cui produrre gli anticorpi. Questi vaccini a RNA in realtà hanno una storia un po' più lunga rispetto all'attuale. Ad oggi sono venuti alla ribalta, ma in realtà i primi studi sui vaccini a RNA messaggero risalgono attorno al 2006, nel momento in cui furono testati i vaccini contro il citomegalovirus, contro lo zicra, contro l'influenza, quindi non è una novità proprio degli ultimi anni. Diciamo che prima di arrivare alla gravidanza in realtà molti rumors erano stati sparsi in rete circa la vaccinazione contro il covid-19 e una presunta insorgenza di infertilità. Questi rumors si basavano sulla falsa idea che gli anticorpi contro la proteina spike, quella appunto del virus, potessero cross reagire anche nei confronti di una proteina espressa dalla placenta umana, la sincitina 1, e quindi andasse a innescare un meccanismo di infertilità nella donna. Bene, questa è una fake news vera e propria perché ad oggi non si è mai dimostrato alcuna correlazione tra vaccinazione anti covid-19 e insorgenza di una infertilità e tanto meno tra una cross reattività tra gli anticorpi contro la proteina spike e le proteine prodotte dalla placenta. Quindi il vaccino contro il covid non dà infertilità. Andiamo però prima a considerare perché dovrebbe essere importante la vaccinazione in gravidanza. Infatti la gravidanza andrebbe considerata di per sé come una comorbidità importante in caso di infezione da covid-19. Noi dobbiamo considerare che durante la gravidanza si hanno nella donna numerosi cambiamenti immunologici e fisiologici che portano a una leggera aumentata capacità di infettarsi nei confronti di tutte le malattie respiratorie. Basti pensare che ad esempio nel caso dell'influenza la donna gravida è considerata dal sistema sanitario nazionale come uno dei primi target da vaccinare. Ovviamente questo accade perché? Perché nella donna si ha una riduzione del volume toracico è esperienza comune di tutte le donne che sono in gravidanza che hanno una leggera difficoltà a respirare dovuta al fatto che l'utero gravidico, comprenendo sul diaframma, impedisce a questo di espandersi nella maniera più normale. La gravidanza di per sé determina anche uno stato di ipercoagulabilità e quindi di un aumentato rischio trombotico. Il rischio trombotico che mi preme precisare sin da ora non è un rischio legato al vaccino ma è un rischio legato alla malattia da covid. Una delle più importanti complicanze del covid è proprio l'insorgenza di una trombosi, trombosi che non è la complicanza della vaccinazione ma è la complicanza della malattia e la donna gravida di per sé tende ad avere un aumentato rischio di formare dei trombi in maniera protettiva perché noi ci siamo evoluti negli anni quando le donne ovviamente partorivano in ambienti non sicuri, partorivano a casa, prima ancora partorivano nei boschi o nelle campagne e una delle maggiori cause di mortalità materna era l'emorragia post partum. Ovviamente negli anni si sono selezionati quindi questi meccanismi difensivi naturali che hanno portato ad un innesco di una maggiore tendenza a formare dei coaguli e quindi dei trombi nelle donne gravide. Infine c'è da considerare che la donna gravida è di per sé comunque forse più suscettibile a contrarre un'infezione perché essendo in gravidanza deve comunque frequentare ambienti affollati quali possono essere ambulatori dei ginecologi o ospedali per andare a fare le visite durante la gravidanza e le ecografie. Detto ciò quindi possiamo affermare tranquillamente che ogni paziente in stato di gravidanza va a soddisfare i criteri dell'Organizzazione Mondiale di Sanità per essere ad alto rischio di esposizione e ad alto rischio di malattia grave da Covid-19. Bene, abbiamo analizzato quindi quali sono i meccanismi fisiopatologici che possono portare a una malattia grave da coronavirus in caso di gravidanza, quindi perché la gravidanza va a complicare il Covid-19 e c'è da dire che la letteratura questo lo dimostra molto bene. Infatti sebbene il rischio assoluto di morbidità e morbidità gravi rimanga basso, è bene precisarlo e non dobbiamo creare dei falsi allarmismi, la gravidanza è di per sé un fattore indipendente associata a un rischio aumentato di ben tre volte per il ricovero in terapia intensiva, cioè due donne di 30 anni identiche da un punto di vista di salute che si ammalano di Covid, una delle due in gravidanza, quella in gravidanza ha di per sé tre volte il rischio di finire in terapia intensiva rispetto all'altra, di 2,4 volte la necessità di avere una ventilazione assistita e purtroppo di 1,7 volte il rischio di morte rispetto alla paziente non gravida. A tutti questi fattori ovviamente poi si possono sommare ulteriori fattori di rischio per una malattia grave da Covid che tutti noi sappiamo che possono essere la presistenza di asma, l'obesità, il diabete, l'ipertensione oppure l'appartenere ad alcune particolari etnie. Infine ovviamente un'occupazione professionale come operatrice sanitaria o caregiver ovviamente in contesti in cui l'esposizione al virus è alta rappresenta a sua volta un ulteriore elemento di rischio aggiuntivo. Abbiamo quindi visto quali possono essere le complicanze della gravidanza sulla malattia da Covid ma ovviamente ora dobbiamo andare a analizzare quali possono essere le complicanze dell'infezione da Covid sulla gravidanza ed in particolar modo analizzeremo sia il versante materno che quello fetale. Dunque c'è da dire che le pazienti gravide che si ammalano di Covid, che si infettano da Covid, hanno di per sé una aumentata incidenza di alcune malattie molto importanti della gravidanza, in particolare di preclampsia e clampsia e sindrome ELP che sono delle malattie che possono rappresentare una vera e propria urgenza o emergenza ostetrica. In conseguenza l'insorgenza di queste malattie abbiamo riscontrato nelle gravide che hanno fatto un'infezione da Covid, un aumento dei ricoveri, un aumento dei parti pretermini e un aumento del numero di tagli cesarei fatti per alterazione del benessere materno o fetale. Vediamo cosa accade invece nel versante fetale. Abbiamo visto che le mamme che si infettano da Covid hanno più frequentemente rispetto alle pazienti che non si infettano da Covid un restringimento della crescita fetale, cioè il bambino cresce meno rispetto al suo potenziale genetico. Ovviamente si ha un aumento di tutte le patologie correlate alla prematurità, perché abbiamo detto che di per sé l'infezione da Covid in gravidanza può portare ad un aumento del parto pretermine e quindi in sostanza della mortalità perinatale. C'è da dire che la trasmissione verticale, cioè da mamma a feto, avviene nella stragrande, è una cosa che può avvenire prima di tutto e che poi è un qualcosa che avviene principalmente nel periodo postnatale, nei momenti dell'accudimento della mamma nei confronti del bambino, ad esempio mentre lo sta cambiando, lo sta vestendo o lo allatta, ma in una piccola percentuale dei casi, attorno al 6% dei casi potrebbe esserci una trasmissione verticale di tipo congenito. Abbiamo visto quindi in sostanza che analizzando il meccanismo di azione dei vaccini contro il Covid possiamo ritenere che questi da un punto di vista di profilo di sicurezza sono sicuri nelle pazienti gravide. Abbiamo a sua volta da aggiungere ovviamente i dati di sicurezza nella popolazione adulta non gravida che è stata vaccinati e infine abbiamo i dati di sicurezza disponibili per i vaccini a RNA messaggero su modelli animali in gravidanza provenienti da uno studio americano grosso che è il Development and Reproductive Technologici dove vanno a chiarire che questo tipo di vaccinazione non porta a delle alterazioni a carico dello sviluppo del prodotto del concepimento. Infine, sempre per quanto riguarda la sicurezza della vaccinazione da Covid in gravidanza, abbiamo una quantità notevole di dati ottenuti in realtà su donne che erano gravide vaccinate non sapendo di essere in stato gravidico e questo era accaduto nei vari trials che hanno portato poi alla commercializzazione dei vaccini contro il Covid-19. Negli Stati Uniti il CDC americano ha introdotto un registro che si chiama V-SAFE and Registering People Who Report Pregnancy. In questo registro quindi sono state riportate e studiate le gravidanze delle donne che sono state vaccinate contro il Covid e i dati raccolti sono veramente un numero notevole. Nel registro sono entrate più di 153 mila pazienti e di queste 5 mila sono state poi seguite pedistiquamente per tutta la gravidanza andando a analizzare l'outcome della gravidanza sia sul versante materno che sul versante fetale. Ebbene cosa ci dice il V-SAFE che comunque sia come ripeto a numeri importanti parliamo di 5 mila donne attentamente monitorizzate ci dice che questo registro non ha indicato alcun problema di sicurezza in base al profilo di reattogenicità e in base agli eventi avversi osservati tra le persone in gravidanza. Gli effetti collaterali che si sono riscontrati nelle donne gravide erano identici, sovrapponibili agli effetti collaterali che si sono riscontrati nelle donne non gravide. I dati che riporta appunto il V-SAFE, vi mostro sulla sinistra nella tabella sinistra il versante materno e sulla tabella di destra il versante fetale, vediamo le più importanti patologie correlate alla gravidanza e nel versante fetale uguale nella prima colonnina dove abbiamo nella prima colonna appunto i dati di base cioè delle pazienti non vaccinate e sulla colonnina di destra invece andiamo a vedere i dati sulle pazienti vaccinate. Come vedete sono del tutto sovrapponibili questi dati, non c'è una differenza statistica tra le persone vaccinate e non vaccinate. Sia per quanto riguarda il versante materno sia per quanto riguarda il versante fetale, come vedete i dati sono praticamente sovrapponibili. Quindi l'incidenza degli eventi avversi, incluso l'aborto spontaneo, la mortalità perinatale, il parto pretermine, lo small for gestational age, quindi un bambino che cresce meno del normale e le anomalie congenite sono paragonabili a quanto riportato normalmente nella letteratura scientifica. Molti dubbi ci sono stati all'inizio soprattutto sulla possibilità che un'eventuale vaccinazione da Covid durante il primo trimestre di gravidanza possa portare ad un'aumentata incidenza di un aborto spontaneo. In realtà tra le 2456 gravide che hanno ricevuto un vaccino RNA messaggero contro il Covid-19 in fase preconcezionale o prima della ventesima settimana di cessazione, il rischio cumulativo standardizzato per età di aborto spontaneo tra la sesta e la diciannovesima settimana era del 12,8%. Se andiamo a confrontarlo con il rischio delle donne non vaccinate vediamo che è praticamente lo stesso. Quindi la vaccinazione da Covid di gravidanza non corrella minimamente con un aumento del tasso di abortività nel primo trimestre. Quindi possiamo dire che possiamo tranquillamente vaccinare anche nel primo trimestre di gravidanza. Non c'è differenza tra tassi di abortività o tassi di insorgenza di patologie malformative a carico del feto quando andiamo a vaccinare nel primo trimestre di gravidanza. Gli effetti indesiderati che sono stati più comunemente riscontrati nelle donne gravide includono tutti quegli effetti collaterali che abbiamo riscontrato anche nelle donne non gravide. Quindi è anche banale andare a riportare ma dolore a breve termine nel sito di iniezione, mal di testa, febbre, emialgie, arthragie, brividi e nausea. Sebbene nessuno dei vaccini attualmente in uso abbia incluso quindi le pazienti gravide nei loro trials clinici ma questo è qualcosa che nessun comitato bioetico accetterebbe di inserire nel trials di studio di un farmaco o di un vaccino le donne in gravidanza, il tasso degli eventi avversi nella popolazione in studio è stato piuttosto basso. Nessun dato ha indicato quindi problemi di sicurezza o rischi per la gravidanza. C'è da dire inoltre che la stessa Pfizer ha iniziato a fare uno studio randomizzato placebo controllato osservazionale a doppio cieco che attualmente è in fase 2 su circa 4000 gravide sane superiore ai 18 anni tra le 24 e 34 settimane di gravidanza che sono state vaccinate. Lo scopo è proprio quello di valutarne l'efficacia, la sicurezza, la tollerabilità e l'immunogenicità del vaccino RNA messaggero. Questo ovviamente comporterebbe un ulteriore dato importante da fornire poi alla popolazione gravida. Andando quindi a concludere qualora una paziente ci chiedesse dottore ma è sicuro il vaccino in gravidanza? Noi possiamo rispondere che ad oggi, primi di settembre del 2021 sappiamo che la letteratura ci dice che il vaccino è sicuro in gravidanza e che questo è sicuro in qualsiasi trimestre della gravidanza stessa. Ho detto proprio questo perché c'erano almeno dei dubbi se farlo o meno nel primo trimestre, ho spiegato come la letteratura ci dimostri che questo può essere fatto tranquillamente nel primo trimestre e inoltre c'è da dire che abbiamo riscontrato anche nelle donne vaccinate al momento del parto nel sangue cordonale si sono riscontrati anticorpi IgG contro il Covid-19 e il numero di questi anticorpi, la concentrazione di questi anticorpi era tanto maggiore quanto più tempo era in percorso dal completamento del percorso vaccinale. Questo è un dato molto importante a su cui riflettere perché vuol dire che la donna anzi deve essere incentivata a fare la vaccinazione quanto prima possibile, proprio perché così si dà il modo al proprio organismo di produrre gli anticorpi che possono poi passare nel sangue cordonale passando la placenta e andando a dare un'ulteriore protezione al bambino. Non vi sono evidenze di dover far passare una tempistica di giorni o di settimane tra la somministrazione del vaccino Covid e altri vaccini che sono somministrati in gravidanza, vedi il vaccino per l'influenza piuttosto che il vaccino per la pertosse in quanto come dicevo il virus, il vaccino contro il virus Covid-19 è un vaccino che non contiene il virus ma contiene soltanto RNA messaggero e di conseguenza non c'è una ragione scientifica per procrastinare una vaccinazione rispetto all'altra. Andiamo a vedere cosa dicono le più grosse società scientifiche nel mondo, mi piace sottolineare quello che dice la Federazione Internazionale di Ginecologia Ostetricia, la Figo, nel bollettino di marzo 2021, quindi comunque un qualcosa che oramai è già consolidato, la Figo appunto ritiene che non vi siano rischi reali o teorici che supererebbero i potenziali benefici della vaccinazione per le donne in gravidanza e sostiene l'offerta vaccinale Covid-19 nelle donne in gravidanza e in allattamento. Come dicevo appunto nella diapositiva di prima quando parlavo della timing di quando effettuare la vaccinazione, come dicevo è importante ricordare alla donna gravida, soprattutto all'inizio della gravidanza, che il numero di anticorpi che noi andiamo a riscontrare nel cordone umbilicale sono tanti di più quanto più tempo è passato dal completamento del ciclo vaccinale. Di conseguenza prima riusciamo a farla vaccinare e probabilmente più anticorpi possiamo passare al bambino e quindi proteggerlo da un'eventuale infezione con Natale. Altro argomento molto dibattuto in ambito ostetrico e ginecologico è il rischio trombotico da vaccinazione anticovid associato alla contraccezione. Dunque è bene secondo me andare a parlare sui numeri. Sappiamo tutti che il rischio trombotico nella popolazione femminile generale, quindi popolazione in buono stato di salute, che non assume farmaci, è di 2 su 10.000. Questo rischio diventa di 5 su 10.000, quindi leggermente più elevato, nelle donne che assumono una normale pilola contraccettiva. Il rischio è significamente inferiore, comunque sia questo qui, rispetto a quello della gravidanza, cioè l'assumere la pilola, che di per sé porta a un lieve aumento di rischio di trombosi rispetto alla popolazione generale, è un rischio comunque significativamente molto inferiore rispetto alla gravidanza stessa. Come detto all'inizio, la gravidanza è un fattore trombotico, che è circa 10 volte di più rispetto a quello della pilola, cioè se normalmente 2 donne su 10.000 hanno un evento trombotico, diventano 5 su 10.000 se assumono la pilola contraccettiva, se studiamo la popolazione in gravidanza queste diventano 50 su 10.000, che è un rischio, come dicevo, piuttosto importante, è un rischio che è paragonabile anche più a un intervento chirurgico o all'immobilizzazione di un ardo. Tale rischio di evento trombotico, di per sé in gravidanza, aumenta se sono presenti delle comorbidità importanti, come ad esempio l'obesità e il fumo di sigaretta. C'è da dire inoltre che gli eventi trombotici che sono stati correlati a vaccinazione da Covid e gli eventi trombotici correlati all'assunzione di una pilola contraccettiva sono due eventi trombotici che hanno un meccanismo fisiopatogenico totalmente differente, interessando anche distretti vascolari totalmente differenti. Infatti in caso di trombosi da pilola contraccettiva solitamente si ha un rischio trombotico agli arti inferiori e raramente un'embolia polmonare. Nel caso invece di trombosi verosimilmente associata a vaccinazione anti-Covid, questo porta a un interessamento dei seni venosi cerebrali, suggerendo una possibile risposta immunitaria anomala contro le piastrine, cosa che quindi non può essere trattata normalmente con gli anticoagulanti, come avviene invece nel caso di una trombosi da pilola contraccettiva. Parliamo quindi onde fugare alcun dubbio di due complicanze trombotiche, seppur eccezionali, ma di natura completamente diversa. Ma andiamo quindi a parlare di numeri, perché forse sono i numeri che ci rendono ben conto del fenomeno che stiamo andando a trattare. Andiamo a vedere quale è l'incidenza di eventi trombotici in varie situazioni che possiamo riscontrare nella nostra vita. Dunque abbiamo nel mondo quattro casi di trombosi su un milione di vaccinati in seguito al vaccino ad AstraZeneca. Questo numero diventa di 500-1200 casi su un milione di donne che assumono la contraccezione. Quindi assumere la contraccezione è una pilola contraccettiva, ma questo l'avevamo già detto in precedenza, di per sé comporta un aumento di rischio trombotico. Aumento di rischio che è evidentemente molto più significativo rispetto alla vaccinazione ad esempio con AstraZeneca. Questo rischio aumenta ulteriormente di importanza se consideriamo semplicemente la popolazione che fuma, cioè un fumatore è più a rischio di avere un evento trombotico rispetto a una donna che prende la pilola contraccettiva. In particolare si assiste a una trombosi da fumo in 1763 casi su un milione di fumatori. Ma il dato che secondo me è ancora più importante da focalizzare è che l'evento trombotico, come ho detto all'inizio della presentazione, è una complicanza importante della malattia da Covid. È evento trombotico che accade nel 16,5% delle persone affette da Covid-19, quindi parliamo di 165 mila casi su un milione di persone affette. Si sono espresse sul rischio trombotico tra vaccinazione e assunzione di pillola contraccettiva tutte le società scientifiche nazionali e internazionali e tutte le società scientifiche hanno evidenziato il fatto che il vaccino anti-Covid non può essere considerato un fattore di rischio trombotico da sommare agli altri eventuali fattori di rischio anamnestici e personali eventualmente presenti nella giovane donna che sta assumendo la pilola contraccettiva. Che non vi è nessuna controindicazione alla vaccinazione nelle donne che assumono una terapia estroprogestinica, qual è la contraccezione ormonale o la terapia sostitutiva ormonale in menopausa. Non vi è una indicazione ad eseguire indagini preliminari per un eventuale rischio trombotico genetico o a effettuare una profilassia antitrombotica dopo la vaccinazione. Qualcuno ha dato empiricamente delle aspirine o delle parine a basso peso molecolare, sono delle cose che non hanno alcun valore scientifico. Le nostre società scientifiche ci dicono che la vaccinazione non è un'indicazione ad eseguire delle indagini genetiche per valutare il rischio trombofilico di un paziente come non lo è di per sé comunque neanche il desiderio di contraccezione ormonale. Purtroppo ancora spesso vediamo tante pazienti che vanno a fare degli esami per il rischio trombotico prima di assumere la pillola. È un qualcosa di assolutamente non basato sull'evidenza scientifica che non porta alcun vantaggio e che porta soltanto di appioppare alla paziente una malattia che non ha in quanto in realtà le donne trombofili che si sono selezionate come ho detto nel mondo nell'evoluzione della natura umana proprio per proteggerle da un eventuale rischio di morte per emorragia dopo il parto. Quindi le pazienti che vogliono una contraccezione ormonale non devono fare assolutamente questo tipo di screening. Le stesse società scientifiche ci dicono quindi che per le donne non gravide a rischio trombotico aumentato non viene nessuna evidenza di contraindicazione alla vaccinazione, cioè la paziente che per motivi suoi abbiamo scoperto che ha una trombofilia geneticamente dimostrata, questa comunque non è una controindicazione alla vaccinazione e infine ci dicono che le donne a rischio trombotico aumentato devono effettuare in gravidanza, ma questo lo fanno indipendentemente dal covid o meno, una profilassia antitrombotica personalizzata in rapporto al rischio e tale condizione a sua volta non controindica l'effettuazione della vaccinazione anticovid in gravidanza, cioè quelle pazienti che di per sé sono trombofili che hanno un rischio aumentato di sviluppare trombosi in gravidanza, di per sé dovranno fare una terapia profilattica, ma il fatto di avere questo rischio non depone per il non fare poi la vaccinazione contro il covid, cioè farsi la vaccinazione non gli aumenta il rischio trombotico preesistente. Quindi possiamo dire che nessuna società scientifica e nessun ente di sanità pubblica ad oggi consiglia la sospensione della contraccezione ormonale nelle donne in concomitanza con la vaccinazione. Possiamo quindi concludere che i rischi dell'infezione da covid-19 in gravidanza superano di gran lunga i rischi ipotetici e non documentati della vaccinazione in donne gravide o chialate. Vi ringrazio per l'attenzione.